Vito a raggiungermi Angelo Gennaccaro, assessore all'innovazione digitale Smart City, politiche giovanili della città di Bolzano, ben trovato. Grazie, grazie a tutti. Sarò veloce, Valeria ti prometto, io sarò veramente un minuto. Cateno, perché sono qui? Sono qui davvero perché la passione che riesci a trasmettere è una passione che arriva, è una passione vera, è una passione che tocca il cuore. E lo dico veramente, io ho iniziato la mia storia politica a 25 anni, seguendo Pierferdinando Casini nella sfida solitaria dell'Udc, destra contro sinistra. Lì è nata la mia passione politica e da lì, fino a prova contraria, sono poi stato eletto consigliere comunale per l'Udc. Finita l'esperienza con l'Udc, sono stato segretario provinciale del partito in Alto Adige, ho fondato il mio movimento civico, quando ho visto che c'era veramente distanza, la politica e i partiti politici non rappresentavano più, non riuscivano più a intercettare quello che era davvero il cuore degli elettori. E allora ho fatto un po' il cateno di Luca di Bolzano. Mi sono inventato una lista civica arancione legata al cambio generazionale, era il 2015, abbiamo fatto il 3%, abbiamo eletto un consigliere comunale a Bolzano. Nel 2016 il senatore, saluto qui la nostra senatrice che fa parte del gruppo per le autonomie, quindi questo ci lega anche, è caduto fondamentalmente, e quindi nel 2016 siamo andati di nuovo ad elezione. Voglio dire che ci hanno corteggiato tutti per andare da una parte o dall'altra. Abbiamo tenuto botta e abbiamo fatto il 6% nel 2016, io sono diventato assessore appunto stando da solo, da noi il sistema è proporzionale, puro, e di conseguenza il sindaco deve trovarsi i voti in aula e sono diventato assessore. Nel 2020 quel 6% è diventato quasi un 10%, abbiamo portato in aula 5 consiglieri, sono nuovamente assessore e andiamo avanti. Ma quello che manca, quello che manca davvero è la volontà, la forza di potersi riconoscere in un qualcosa. E questo lo vediamo nel territorio, lo vediamo nei giovani, nelle persone che chiedono fondamentalmente di avere delle risposte, di avere punti di riferimento. Ecco dunque, secondo me, quello che dobbiamo fare è partire dal nostro territorio, partire dai territori. Io me lo immagino come un partito di amministratori, un partito di buona amministrazione, di buoni amministratori. Penso che se siamo in grado di fare questo, io adesso non so se noi aderiremo oppure no. Io sono qui per ascoltare, ma la passione che insomma ho visto qui in qualche modo, se la direzione sarà quella davvero di poter creare un qualcosa di pulito, di puro, che nasce dai territori, e tu secondo me ne sei un po' l'imprinting, perché questa cosa a me arriva, a noi arriva, credo che la strada sia quella giusta. Quindi buon lavoro a tutti quanti.